In 60 anni il mondo dell'auto si è profondamente trasformato nello stile, nelle abitudini, nelle tecnologie. Astra ha assistito all'evoluzione del costume, all'emancipazione delle persone, al valore di nuove ricercate forme di esperienza e di benessere. Quasi senza accorgerci, siamo stati spettatori di eventi straordinari, di mode passeggere, di ritorni eccellenti e quindi di successi condivisi. Il tempo è passato in fretta ed una piccola realtà è diventata un importante punto di riferimento per gli automobilisti con nuovi orizzonti commerciali, Nuovi brand Nuove tecnologie d'avanguardia 60 anni di serio impegno, di puntuale servizio, di cordialità sincera. E per questo e molto altro vogliamo ringraziare chi ha compiuto un cammino con noi in questa straordinaria esperienza di vita e di successo. Nuove tecnologie d'avanguardia Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici, sono stati giusti maggiorni di sensibilità. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici, sono stati comforti a tutti i nostri amici. Adriano, i nostri amici, siamo stati spettatori. Grazie a tutti i nostri amici, sottichetti che sono stati spettatori di ferie di tempo, Grazie a tutti.